Stai registrando? Adesso come cazzo inizio? Dammi un video, tipo... Che cazzo non so, tipo... Ciao ragazzi, siamo... Sì ma allora, devi aspettare che vienisco di parlare prima di iniziare, se no... Ma perché deve venire spontaneo? Ciao ragazzi... Vedi, così non è spontaneo Ciao ragazzi, stavi registrando Ciao ragazzi, e... Che due palle Ciao ragazzi, oggi vi assembliamo il mio nuovo computer Perché dopo tre anni, giustamente Allora... La scheda madre, ve la leggete voi perché... C'è una Z68XPPQ... 2, 4, 8, 16... 2, 9... 16 GB di RAM Corsair, Vegans, CCC e CoCoCo Disco SSD SATA 3 Scheda video GTX 550 Ti Chi se ne frega E Core i7 LGA 1115 Non è importante i7 2600K Sbloccato Pronto per l'overclock che non farò perché sono un conservatore Dentro un case Va bene, lastro case E quindi niente Cominciamo Allora... Questo non serve a niente Questo... Serve un cazzo Serve a niente Come no? Serve a niente Serve un cazzo Serve a niente Scheda madre Bisogna essere molto accorti Come ho detto anche nell'altro video su assemblare un computer Con... Quando si vanno a toccare i componenti della scheda madre Perché... Non possiamo sovraccaricare delle solotificità la scheda madre Quindi mi raccomando Non toccare assolutamente qui, qui, qui Quindi dobbiamo assolutamente mettere i quarti Noi siamo professionisti Quindi possiamo farne meno Perché la scheda madre è molto presente al nostro cubino Un coso così piccolo che fare Questa è la pasta termica Questa è la pasta termica Non ho dimenticato di mettere la pasta termica Non so... Beccaspolo Qui devo... Andar giù eh Che perlotte rumore cazzo Questo dissipatore funziona bene Stronza, muori, poi si mette lo slot così diventa un 3-5 poi lo mettiamo qua che diventa un coso che entra il mio computer Anche io non so dove Ricordiamoci di togliere queste merdine davanti ai colbi Grazie per la visione! A l'equipotto mo io do Doy pit night come and 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 vai come come and esatto ok doppio dissipatore boom so sono anche no vecchio sono anche a due distanze diverse tac tac c'è il ponte wow c'è il ponte c'è il ponte c'è il ponte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti